Abbandono e degrado, i cittadini del quartiere Bagnoletto in rivolta. Non è possibile che una zona densamente abitata come la nostra non venga presa in considerazione dalle istituzioni. I problemi sono innumerevoli, dalla condizione dei canali alle strade, dalla viabilità all'illuminazione. Ma oggi quello che ci preoccupa in particolare, hanno spiegato il presidente Gaetano Rosmarino e il portavoce Alessandro Ieva, è la situazione della struttura demaniale, abbandonata da oltre 40 anni, sita in via Gasbarra, proprio all'ingresso del quartiere. E inoltre la criticità della viabilità intorno ad essa. Questa struttura è pericolosa, abbandonata, inutilizzata, mentre potrebbe essere una grande risorsa per questa zona. Cosa si potrebbe fare all'interno di quest'area? Questa struttura è una grande potenzialità per il quartiere, perché abbandonata a se stessa non ha nessun utilizzo. Invece se resa ai cittadini potrebbe comunque tornare utile per il sociale, creare una struttura di aggregazione e quindi rendere partecipe tutti gli abitanti e cominciare a dare un decoro a un quartiere che ha bisogno di crescere anche a livello di strutture e quant'altro. Come comitato di quartiere abbiamo richiesto già dal 2006 la possibilità di utilizzare la struttura come sede del comitato. Attualmente non siamo in grado o perlomeno non ci hanno indirizzato correttamente verso le sedi opportune a cui richiedere questa richiesta a fare. Quindi inizialmente questa struttura era, ovviamente, dicevamo, sono pompe di sollevamento, quindi di competenza del consorzio di bonifica Tevere Agro Romano. Dopodiché cosa è successo? È successo che praticamente queste pompe non sono state mai utilizzate, restano così abbandonate e alla fine non fanno quello che dovrebbero essere utilizzate per travasare acqua, per risolvere problemi idrici. Voi avete quindi interpellato il consorzio di bonifica e per cosa vi ha risposto? Il consorzio di bonifica ci ha detto che è una proprietà demaniale e che loro sono solo gli utilizzatori, anche a questo punto senza ragione. Quindi voi cercate di contattare il demanio, cosa che sembra praticamente impossibile da quanto ci avete raccontato. È impossibile praticamente contattare il demanio. Abbiamo fatto diverse chiamate senza avere mai risposta e pertanto siamo qui a chiedere l'utilizzo di questa struttura come sede sociale o come comitato di quartiere. Potrebbe venire benissimo una biblioteca, un asilo, comunque che venga utilizzata per il sociale e non lasciata in questo stato di completo abbandono. Non solo il degrado della struttura abbandonata del consorzio di bonifica ma anche gravi problemi per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza dei pedoni. Guardi, io come presidente di questo comitato da otto anni, dal 2006, circa quattro anni fa, feci una richiesta alla vecchia amministrazione Bordoni, e nello specifico all'assessore Farina, di fare un piccolo rondò qui in questo slargo, un piccolo rondò con un palo di illuminazione pubblica per far sì che si dia un senso di marcia, cioè che si dia il senso di uscita ed entrata di questo slargo, perché poi tra parentesi ci passa anche l'autobus. Qui ci passa l'autobus, poi da quest'altra parte vediamo le macchine a pettine da un lato e dall'altro, poi nell'ora di punta la mattina, la mattina da mezzogiorno e mezza, o inoltre da mezzogiorno e mezza fino verso le due, la sera dalle sei, cinque e mezza, sei, fino verso le otto. Qui ci sono, oltre macchine a pettine da un lato e dall'altro, le macchine anche in sosta a ridosso di quella a pettine, quindi eccolo qua, guardi, guardi che roba. Lei immagini che ci sia stata una macchina in sosta in doppia fila, avrebbe creato già il caos. Cioè è un degrado veramente, cioè questo è il biglietto d'avviso dell'ingresso di Bagnoletto, perché per noi questo è il biglietto d'avviso di Bagnoletto, perché noi tutti quelli che abitiamo a Bagnoletto siamo costretti a passare qua, entrare e uscire qua, perché non abbiamo altre strade. L'unica strada che avevamo, questa qui a doppio senso, ce l'hanno fatto anche a senso unico, per via dell'autobus. Inoltre la cosa si è aggravata anche con l'avvento dell'apertura del nuovo McDonald's. Qui la sera dell'inaugurazione ci saranno state 300 macchine qui fuori che hanno bloccato tutto, hanno bloccato. Quindi noi chiediamo, veramente chiediamo che venga istituito un senso di marcia, una pulizia in questo slargo qui. Io lo chiamo slargo perché ancora non ha un nome, non ha un nome di una piazza. Ad esempio potremmo chiamarlo Largo Bagnolo, tanto per dire. Cioè una sistemazione a questo slargo e dare un senso di marcia, una ripulità.